Ciao a tutti ragazzi, qua è Bielorzio, che parli e ci sono qui con questo nuovissimo video di FIFA 14 Ultimate Team Questo non squad verde, una squadra costata 5.000 credit, quindi niente li guadagnate vincendo una divisione o anche retrocedendo alcune volte E' davvero una squadra fortissima, non ho mai perso, ho pochissimi clip ragazzi Comunque, mi scuso perché per questi pochi clip, comunque è una squadra veramente fantastica, la vedete qua Ho messo Anderson al posto di Ambrosini, che secondo me è molto meglio Anderson di Ambrosini Perché, appunto, Ambrosini è lentissimo invece, Anderson ha ritrodotto tantissime volte questi due nomi E' più veloce e più forte nel tiro Gli attaccanti, come potete vedere, sono destro i card, due giocatori veramente fantastici Morales, poi qua vedete, vabbè, il costo di ogni singolo giocatore circa 500 credit, 400, 600 credit, massimo, massimo, massimo mi sembra 600, sì Comunque, questi sono le mie poche azioni che ho potuto registrare, perché le altre le ho cancellate come un pollo Comunque ragazzi, se questo squadra di builder vi è piaciuto e volete altri squadri di builder tipo questi, tipo 5000 crediti fortissimi Ne ho già pronti uno della Berkley's Premier League, quindi ditemi questo sotto nei commenti se lo volete Lasciate un mi piace, un commento ed iscrivetevi al canale Vi ricordo anche di passare le tre parti di video che lascerò qua sotto in descrizione Di cui una è FIFA 14 Italia per PC, dove potrete partecipare ai miei big league che giocherò con questa squadra e quelli della BPN Comunque ragazzi, da Piroz è tutto, alla prossima, ciao!